Stanotte su Larga TV assisteremo all'evento più atteso, l'annientamento di un intero pianeta! Assisti alla potenza, alla distruzione e all'ulla che segue! Non perdere il supremo presidente esecutivo Drake che preme un tasto e mette così fine a un mondo per crearne un altro! E ora le papere più divertenti dei supereroi della galassia con il nostro capitano Quark!